L'idea del film nasce dalla mia personale conoscenza con quelli che sono poi diventati i due attori protagonisti del film, Kader Alassan e Moussa Amone. Sono due ragazzi africani che sono qui in Italia da almeno una decina di anni, abitano a Napoli. Da lì la voglia, assieme a loro, di raccontare in qualche modo una storia che fosse esemplare delle difficoltà che affronta un ragazzo africano quando viene da noi. Infatti il cast è completamente composto da attori non professionisti anche se secondo me si sono rivelati estremamente efficaci. L'unica attrice professionista è Stere Liscia che interpreta il loro di Suad e che è stata anche l'ultima che siamo riusciti a trovare perché era molto difficile trovare attrici di colore in Italia. Abbiamo cominciato a fare i provini credo già nel 2007. Poi ci siamo interrotti perché non c'erano i soldi per continuare, fino a quando poi due anni dopo non abbiamo deciso di partire comunque, nonostante la scarsità delle risorse. Facevamo molti shock e quando a un certo punto erano talmente stanchi che ad avere memorizzato totalmente la battuta e non avevano più quel senso di vergogna che avevano all'inizio risultavano proprio secondo me assolutamente naturali. Io ho scritto questa storia nel 2005-2006 e quindi prima in realtà della strage di Castelvolturno del 2008. Già la storia del 2005-2006 raccontava però lo scontro tra un piccolo clan africano e la Camorra locale che in quel caso aveva preso il nome del clan dei Casalesi. Fino al 2005-2006 fino a Gomorra era abbastanza sconosciuta. Appena mi rivolgevo a un produttore gli dicevo voglio fare un film su un ragazzo africano che viene qui da noi a Castelvolturno, scattava automatica la risata. I produttori ritenevano che non fosse un film che la gente sarebbe andata a vedere al cinema. Ho comunque trovato a un certo punto Dario Formisano, produttore napoletano ma che sta qui a Roma da una ventina d'anni, che ha creduto comunque nel progetto. Poi si è aggiunto Gaetano Di Vaio di Figli del Bronx a Napoli e infine Gianluca Curti. Insieme sono riusciti a trovare quel minimo budget con il quale abbiamo deciso di partire. è stato importante un finanziamento della regione Campania, quel minimo che ci ha consentito comunque di partire con le riprese, anche perché era scaduto quasi il termine, quindi dovevamo girare, se no perdivamo quel finanziamento abbiamo deciso vabbè partiamo, facciamo, vediamo come va a finire. La gente spesso pensa che l'autore del film sia un regista africano, proprio perché non è abituata all'idea in qualche modo di una storia che sia totalmente interna al mondo dell'immigrazione come appunto l'Abbà. È una sorta di pedinamento alla Zavattini, alle spalle di questo ragazzo che viene da noi partendo dall'Africa. A me questo punto di vista, che a molti è sembrato innovativo o diverso, in realtà sembra quello più automatico. Nel momento in cui si vuole fare un film sulla mafia italo-americana si fa un film come Il Padrino, non si racconta la storia dell'uomo della middle class americana che entra in contatto con la mafia italo-americana facendo una camminata per Little Italy. Nello stupore diciamo nei confronti di questo punto di vista che viene considerato innovativo io invece riconosco la distanza che continua ancora a esserci tra gli italiani e gli immigrati ed ho scoperto che molti africani partono con l'idea di andarsi a giocare proprio la chance della propria vita, quasi che fossero degli atleti che si preparano per andare alle Olimpiadi. Nel momento in cui spesso, come capita spesso, le difficoltà sono insormontabili e quindi non c'è una vera possibilità di realizzare i propri sogni, la realtà è molto diversa dalle aspettative con cui si parte, si prova un profondo senso di vergogna e per cui ho scoperto che spesso i racconti che fanno gli africani di come si vive realmente in Italia o in altri paesi di immigrazione è molto diverso dalla realtà. Questo ovviamente non fa che alimentare poi un nuovo flusso migratorio. L'esempio, l'episodio che mi hanno raccontato, che mi ha colpito di più è quando mi hanno detto che ci sono alcuni africani che non riescono nemmeno a partire dalla Libia ad attraversare il Mediterraneo e magari si stabiliscono lì e raccontano nelle loro telefonate di essere in Italia, che va tutto bene. Ho scelto di utilizzare la 5D perché la macchina che al momento in cui giravamo riusciva a garantire una maggiore qualità filmica, sembra quasi, sembra proprio la pellicola per certi versi e non volevo assolutamente che questa storia potesse essere visivamente assimilabile al tantissimo materiale di tipo giornalistico e quindi video che si trova in televisione. Cioè secondo me era una storia che in qualche modo, tra virgolette, aveva bisogno di una sorta di dignità filmica. Quasi ogni scena credo sia stata girata cercando di adeguarmi a quello che raccontava la scena. Ci sono dei momenti rispetto agli altri particolari in cui l'azione sembra rallentare quasi in una sorta di visione onirica. Mi sembravano momenti necessari per far passare alcune informazioni un po' più delicate, diciamo, in maniera un po' più affascinante. In questo caso mi ero visto un po' di film di Tarkovsky dove ci sono queste lunghe carrellate oniriche che in qualche modo ho cercato di riportare anche in questo film, nonostante l'argomento fosse totalmente diverso.